Ciao a tutti e benvenuti. Allora, io sono veramente stanca ragazzi, non credevo, non credevo che sarei arrivata a registrare questo video, però mo basta, mi sono letteralmente rotta le palle. Ah, finalmente Sarenka ha detto palle. Dopo otto anni, dopo otto anni qui su YouTube mi sono permessa di dire palle, sono scesa ad un livello in cui non sarei mai voluta scendere perché io amo utilizzare i sinonimi in queste situazioni, come per esempio mi sono rotta le scatole. Però avete presente quando avvertite la necessità di volervi liberare da qualcosa? Ecco, mi sono rotta le palle, ok? Adesso lo posso dire. Mi sono seriamente stancata ragazzi, io ve lo dico, sono davvero stanca. Questa cosa va avanti già da parecchio tempo, settimane, ma mi sono sempre detta, dai sa, lascia stare, vai avanti, crea contenuti, pubblica i tuoi video e vedi un po' come va. Però adesso ragazzi, io sono arrivata al limite. Mi sono davvero rotta, ho sì una programmazione per il mio canale e sinceramente non so nemmeno se la lascerò, se mi parto nei 5 minuti la cancello anche perché io sinceramente su questa piattaforma non mi sento né apprezzata e nemmeno rispettata. E ora vi spiego il perché. Innanzitutto, da qualche settimana i miei iscritti stanno ballando letteralmente, ora non so se l'hip hop la samba, non lo so, però vi spiego quello che accade. Un giorno, vi faccio l'esempio con i numeri piccoli, un giorno ho 100 iscritti, dopo un'ora ne ho 70, dopo un'ora ne ho 95, dopo un'ora ne ho 80, dopo un'ora ne ho 60, dopo un'ora ne ho 50, dopo un'ora ne ho nuovamente 90. Ora, ci sta che qualcuno magari si disiscriva dal mio canale, fate pure, io non voglio sagome di riempimento, non voglio persone che non mi apprezzano, non voglio persone che non mi sostengono, anche se a guardare il mio canale ci sono tante persone che effettivamente non mi sostengono. Però vabbè, fare i vostri, fate quello che volete, io se per esempio guardo una persona che mi dice delle cose vere e posso fare qualcosa nel mio piccolo per sostenerla, lo faccio. Però se ad altri non va, non mi importa niente, io non campo di questo ragazzi, è giusto che lo sappiate, non campo di questo e fortunatamente non so né una morta di fame e né una morta di fama, punto. Quindi, non campo di questo e inoltre volevo anche dirvi che appunto i miei iscritti stanno ballando. Quindi, primo consiglio, controllate l'iscrizione se comunque siete persone che mi seguono e vedete un po' se lo siete ancora, se siete ancora iscritti perché non è detto. Non lo so se a qualcuno di voi va di diffondere quello che sta succedendo, fatelo altrimenti ragazzi amano, ve lo dico proprio sinceramente, ma sono stancata di ripetere sempre le stesse cose e mi sono anche stancata di essere presa per i fondelli, perché queste sono prese per i fondelli. Un giorno 100, dopo un'ora 90, dopo un'ora 60, dopo un'ora di nuovo 80, 95, oh ma che cacchio di gioco stiamo giocando. Che uno si fa il mazzo con tutti i pensieri che ha, con tutte le cose che ha da fare nel corso della giornata, una famiglia e le cose, uno si fa il mazzo per portare dei contenuti elaborati tra l'altro. Io per registrare il video di Tupac non vi dico quanti ore ci ho messo, non vi dico un'intera giornata, perché a volte dovevo bloccare, perché avevo altro da fare, altri impegni, altre responsabilità. E non vi dico nemmeno quanto mi c'è voluto premontarlo per salvarlo, ho provato a pubblicarlo tre volte il video di Tupac, per tre volte c'era qualcosa che non andava. Allora riprendi il video, riprendi il video, vai nuovamente a fare un taglio, taglia quella parte che ha urtato la sensibilità, rimetti il video. No, ancora non è idoneo, quindi taglia l'altra parte, rimetti la parte. E mo' me sono stancata però, eh, mi sono veramente stancata. Vedo su YouTube persone che non fanno altro che bestemmiare dalla mattina alla sera. Dalla mattina alla sera. Litigi e dissing e odio. Oh, se è questo quello che volete, se volete che sta piattaforma diventi un covo di odio, ma fate pure, io me ne tiro fuori. Io me ne tiro fuori, perché sinceramente di queste prese per i fondelli belle e buone, no. Assolutamente no. Ma veramente uno deve perdere la salute a stare dietro a ste cose, a ste bambinata, a ste stupidate, a queste cose infantili. Che mo' me metti 100 iscritti, mo' me ne metti 80. Loro lo fanno per cercare di demoralizzare, per cercare di demoralizzarti e invitarti a lasciar perdere. Come per dire, lo vedi? Quanto fai schifo, le persone manco ti vogliono più seguire. Lo so, quella è la mentalità. Quello è, quello è. Quindi, io registro questo video perché ne ho le scatole piene, ok? Questa situazione va avanti da settimane, io non ho detto nulla, non ho nemmeno accennato a questa situazione nei miei video. Perché fondamentalmente non mi interessava. Io, ripeto, sono consapevole del fatto che le persone possono disiscriversi dal mio canale. Fate pure. Se non vi piaccio, se non mi apprezzate come persona, andate, andate, giusto che sia così. Del resto, io, io, Sara, non vi ho mai detto iscrivetevi, mettete questo, mettete quello, mettete... L'unica cosa che vi ho chiesto di fare è, se vi va, iscrivetevi ai miei canali e se vi va, diffondete i miei video. Che poi sono andata un pochino a vedere in giro, due, tre persone hanno diffuso i miei video. Ma va bene così, va bene così. Dovete fare nella vostra vita quello che volete fare. Però non mi venite a dire che le persone sono interessate alla verità. Non venitemi a dire che le persone sono interessate a delle cose più complesse. Perché non è vero. Perché le cose che vanno di più, ok, sono i gossip, l'odio, la diffusione d'odio, io critico te perché non mi piaci. Questo va avanti. Questo va avanti. E quindi è giusto che sia così. Però io non mi sento più rispettata. Qua non è un fatto di censura o non censura. Qua si tratta proprio di rispetto. Di rispetto. E visto che io non sono meno di altri, come altri non sono meno di me, dovremmo essere tutti quanti allo stesso livello. Quindi come? A me non me la fai passare, mentre ad altri fai passare lo schifo? Io non mi sono mai, mai, mai espressa in modo volgare nei miei video. Non ho mai utilizzato nemmeno una parola fuori posto. Perché non lo faccio nella mia vita. Non lo faccio nella vita fuori da YouTube. Ma figuriamoci qui. Alla fine se io fossi stata una ragazza abituata alle parolacce, una volta, una volta mi sarebbe pure scappata. Non mi piacciono le parolacce. Preferisco utilizzare i sinonimi. Per aver detto mi sono rotta le palle. Ok? Avete presente quel senso di liberazione? Avrei potuto dire scatole. Ma dovevo dire palle. Perché non ce la faccio più. Ok? Perché non ce la faccio più. Tutti quanti dovrebbero essere allo stesso livello. Quindi come punisci me per una determinata cosa? Punisci anche gli altri. Quando in un video dicono... Sparano 100 membri di Segugi. Però tutti zitti, zitti. Perché? Perché l'ha detto quello o quella che hanno un botto di persone che li seguono. E quindi necessariamente a loro bisogna tutelarli. Mentre gli altri sono la fogna. E' una questione di rispetto ragazzi. E' una questione di rispetto. Io non mi sento più rispettata. Ma non so che cosa farò. Sinceramente ve lo dico. Proverò nuovamente a ripubblicare sul mio secondo canale il video su tutti i Tupac. Altrimenti ragazzi. Io ve lo dico. Non posso perdere salute. Ci metto sempre tanto amore. Passione. Io proprio le faccio col cuore le cose. Ok? Faccio le cose col cuore. Perché voglio tenervi compagnia. Mi piace poi condividere cose di questo genere. Mi piace informarvi. Mi piace registrare. Mi piace registrare. Però se deve essere così. Se deve essere ogni volta. Mamma mia. Se deve essere così. Così da esaurirmi. Allora no. Ma assolutamente no. Quindi questo sta accadendo. I miei iscritti stanno ballando. Non so ragazzi. Non so veramente. Io. Poi ultimamente non sto nemmeno parlando di tematiche. Chissà quanto. Oh mamma. Scioccanti. Mi sono stati levati. Non vi dico quanti video. Non vi dico quanti video. In cui non dicevo niente di che. Video resi non idonei. Perché poi? Però quando fai un reclamo. Mettendo anche il link di un'altra persona che ha registrato lo stesso video. Utilizzando anche dei vocaboli peggiori dei miei. No. Quel video rimane. E il mio viene tolto. Allora è un accanimento contro di me. È un accanimento contro Sara come persona. E non mi venite a dire che sono tutti allo stesso piano qua. Perché non è vero. Ve lo dice una che sta dentro. Non è vero. Perché come punisci me? Punisci anche gli altri. E non che gli altri è tutto concesso. Mentre hai canali un po' più piccoli. No. Appena vai a strisciare poco poco fuori dalla riga. Subito. Boom. 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 Basta. Basta. Non so. Rotta. Ok. Quindi. Questo è quello che sta succedendo. Mi dispiace per il tono. Mi dispiace per la voce. Ma. Sinceramente mi sono rotta le scatole. Di farmi vedere sempre qui. Bella buona cara. Basta. Basta. Mi sono stancata ragazzi. Ok. Quindi. È una situazione questa che va avanti da settimane. E. Basta. Quando uno arriva al. Diciamo che quando uno arriva al limite. Poi lo sfogo è necessario. Bene. Quindi. Io vi auguro un buon proseguimento. Sto video di Tupac. Non so se uscirà. Era un video veramente carino. Nel senso che. Dura. Tipo. Un'ora. E tredici minuti. Se non erro. Vi racconto della sua vita. Vi racconto di tutti gli interrogativi. Riguardanti la sua morte. Me lo lasceranno pubblicare. Non ve lo so dire. Mi sento stupida anche io. Per aver detto. Mille volte. Il video di Tupac. L'altro ieri. Il video di Tupac. Chi. Il video di Tupac. Oggi. E non so nemmeno se. Riuscirò a pubblicarlo. Bene. Io. Adesso devo andare. Perché comunque. Tra poco ho. Da fare le mie cose. E non sarò più sola in casa. Quindi devo andare. Questo volevo dirvi. Inizialmente avevo addirittura. Intenzione di aprire una live. Poi ho detto. Non apro live. Evitiamo le live. E va bene così. Questo è ragazzi. Ok. Io non so che dirvi. In questo momento. Ho una nube. Nella testa. Non so che fare. Non so che dirvi. Non so nemmeno se. Lascerò quella programmazione. Non so se è il caso di salutarci. Non so se è il caso di restare. Vedere come va. Non so più nulla. Ok. Quindi. Io non vi chiedo ormai più niente. Perché anche se comunque si chiede con gentilezza. Le persone. Non lo fanno. Quindi ragazzi. Vivetevi la vostra vita. Grazie a tutti coloro che davvero mi sostengono. E ci vediamo alla prossima. Se ci sarà una prossima volta. Grazie a tutti.